Noi abbiamo bisogno di una data certa, immediata e il più presto possibile. Ci accontentiamo di giugno, siamo consapevoli che è già troppo tardi per la nostra stagione. Il nostro settore ha bisogno di una programmazione che richiede mesi per preparare un matrimonio, un evento, una festa. E alla fine la tanto attese ed invocata data certa è arrivata dalla cabina di regia del governo. Dal 15 giugno prossimo sarà possibile festeggiare matrimoni e cerimonie ma con il Green Pass che certifica l'avvenuta vaccinazione o tampone eseguito per ciascun partecipante. Un provvedimento che i rappresentanti locali del wedding avevano sollecitato anche ad Erika Stefani, il ministro Vicentino, che oggi gli aveva incontrati in veste ufficiale in prefettura. Assolutamente in veste ufficiale. Ovviamente essendo Vicentina conosce bene il nostro territorio, conosce le strutture, le ville, il patrimonio artistico e culturale della nostra regione. È 14 mesi che non lavoriamo quindi abbiamo bisogno di risposte certe. Possiamo ripartire con dei matrimoni in sicurezza. Una riapertura posticipata gradita ma sofferta che lascia irrisolte alcune contraddizioni. Una delle contraddizioni maggiori di questo momento è che gli eventi e i matrimoni sono vietati ma attualmente nei ristoranti si può fare un ricevimento di nozze. Anche la stessa comunione, cresima, quello che è, si può andare al ristorante a fare questo ricevimento. Quindi adesso ci sono dei lavoratori, secondo me, di serie A e di serie B. C'è un altro mese in cui ci sono delle persone che potranno lavorare e continuare a lavorare e delle persone che non lavoreranno per un altro mese.